Andiamo a mangiare la cantinetta? E' una fantastica giornata di sole Questo finisce direttamente nel vlog di oggi Perché le tapparelle sono sempre giù? Ma raga in montagna sto facendo una vita troppo bella Allora, adesso facciamo una breve anteprima di AffiloBook Perché non mi fa vedere tutti i risultati? Ogni colore Allora Poche parole Siamo al lavoro sulla versione 3 di AffiloBook 3.0 Nuovi in AffiloBook abbiamo Molti molti più moduli Questi come potete vedere su Drive sono i moduli su cui stiamo lavorando Per ora quelli nuovi sicuri che abbiamo Un intero modulo dedicato a Facebook Stiamo creando un modulo relativo al native E anche un nuovo modulo dedicato completamente al pop E tra l'altro una cosa che ci hanno richiesto più e più volte E che andremo a trattare sarà il continuo Della case history di A tutta griglia Che ha raggiunto nuovi risultati interessanti Ok Questo qui è FunnelFlags Il tracker che utilizziamo ultimamente Ed è veramente figo Abbiamo una campagna che si chiama AffiloTest E il vantaggio che ci ritroviamo è quindi questa visuale grafica Che ricorda un po' quelli dei software di marketing automation Che ci permette di andare a creare dei flussi dei flow di traffico E utilizzare diverse funzioni per ovviamente andare a fare lo splitting, testing Ovviamente di quelle che sono diverse fonti di traffico Campagna, offerte, landing Botto Botto, vieni a lavorare Cosa vai? Io sono in serio